La cooperativa Terra Antica spalanca le sue porte per accogliere circa 87 animali rimasti al freddo dopo la recente ondata di maltempo. Bovini e oveni sono arrivati ieri da un allevamento di Campotostoli, cui strutture sono venute giù dopo le ripetute scosse dello scorso 18 gennaio e i tre metri di Coltre Nevosa. Da Corfinio ecco una prima risposta concreta alle innumerevoli difficoltà che stanno affrontando gli agricoltori. Se non c'è collaborazione finisce tutto. Il nostro scopo è quello di coordinare tutti gli allevatori, dimostrando impegno e fattiva solidarietà, sottolineato Fausto Ruscitti che assieme ai suoi collaboratori ha lavorato alle cremente per allestire la stala di Corfinio. Un gesto di solidarietà concreta perché mettere a disposizione una struttura, sostenere gli animali con fieno, mangime e tutt'altro per noi sono grossi sacrifici. Però lo facciamo volentieri perché se non c'è collaborazione tra noi agricoltori, tra noi allevatori, quindi finisce un po' tutto. Lo scopo nostro, oltre a fare le proprie attività, è anche quello di coordinare tutti gli allevatori laddove è possibile. In questa occasione abbiamo dimostrato una solidarietà concreta. Al settimo cielo gli allevatori di Campo Tosto per l'ospitalità ricevuta, preoccupati per il mantenimento degli animali e il mangime da riperire a lungo termine. È stata dura sia per il maltempo ma soprattutto per il terremoto, poiché la nostra azienda situata vicino a Campo Tosto, dall'SS80 a 4 km da Ortolano, è venuta a collassare. Si aprì il terremoto, come avevo detto, che per l'ondata di perturbazione con metri e metri di neve. Siamo stati ospitati qui, nell'azienda Terra Antica, dove abbiamo trovato una grande accoglienza con persone di cuore, maggiormente persone che amano gli animali come noi. Però purtroppo ci sono tanti problemi, penso sottovalutati, perché siamo venuti qui, l'ospitalità, come dico, è tanta, ma siamo senza foraggio, senza alcun tipo di mangime, poiché loro fanno tutto ciò che possono. Solamente qui serve foraggio, serve mangime, rimasto in alta quota, poiché è intrappolato tra le macerie, circa 200 rodoli di foraggio, circa 200 quintali di mangime, irreperibili tra l'altro. Servirebbe un appoggio delle istituzioni, concludono la Terra Antica, che ha messo in salvo uno dei patrimoni preziosi dell'Abruzzo, il bestiame. In questa prima fase diamo tutto, cerchiamo di dare tutto, però poi se si protrae l'attività per diversi mesi non abbiamo le energie, quindi a questo punto dovrebbe sopperire la protezione civile, una solidarietà, diciamo, da parte del pubblico, da parte delle istituzioni, se si vuol salvare, altrimenti rimangono sempre le solite chiacchiere e basta. Quindi questi problemi ce l'hanno, noi diamo una mano, però poi qualcun altro deve intervenire.